Mister Nicola Ragno ha varato il suo personale calendario e ci ha segnato sopra la data d'inizio del campionato, quella vera, 11 ottobre. Dopo due risultati negativi e zero punti in classifica, buona la terza giornata, la domenica in cui il bitonto ha superato agevolmente un pur volenteroso Molfette. Un mese di allenamenti col torneo già in corso, però, dà il segno di una precarietà che è bene non dimenticare mai e che va domata con l'impegno atletico quotidiano e l'affinamento degli automatismi tattici. Domani, derby della Murgia e trasferta in quel di Altamura contro la temibile team di due ex molto amati qui, l'ancora under ma tanto scafato Michele Terrevoli e il mediano tutto stile e stiletto Carlos Turubiason, due dei protagonisti della cavalcata trionfale dello scorso anno. Gli altamurani sono con Casarano e Taranto nel gruppo degli inseguitori della Lepre Brindisi. Non sarà facile venirne fuori con tre punti in bisaccio. L'allenatore è soddisfatto di come i suoi hanno lavorato in settimana. Questa settimana è la prima settimana dove ho avuto tutti i disponibili, a parte gli infortunati, per il resto ho una rosa dei 22 elementi che sono tutti disponibili, quindi andremo, ripeto, come ho detto prima, con la consapevolezza nei nostri mezzi e cercando di portare via i tre punti fuori casa ad Altamura. Lavoreremo, già la settimana scorsa abbiamo fatto qualcosa, questa settimana abbiamo fatto altro e man mano alzeremo l'asticella sia sotto l'aspetto fisico ma soprattutto anche sotto l'aspetto tattico. Nel frattempo due nuovi puntelli sono arrivate ad irrobustire l'ossatura di Leoncelli, due giocatori che eleveranno ulteriormente il tasso qualitativo dell'organico. Francesco Agresta, centrocampista trentenne ex grumentum Valdagri e Vittorio Triarico, esterno d'attacco classi 89, proveniente dal Monopoli. Ed è proprio l'ex biancoverde ad illustrare la gara contro i federiciani. Adesso domenica ci aspetta una partita importante che sappiamo che dobbiamo affrontare con la massima intelligenza e con la massima attenzione perché affrontiamo una buona squadra. Penso che la squadra questa settimana si sia allenata molto bene e adesso non ci riesce a affrontare la partita. Grazie a tutti.